superammo gli esami anche di quest'aeroplano e ce ne torniamo tranquillamente in italia e quindi si doveva riprendere a rimini seno che decisero di rifare la pista dell'aeroporto di rimini e quindi momentaneamente ci mandarono a cameri che un aeroporto che sta vicino nobara e quindi i primi voli sul 104 li abbiamo fatti a cameri sostanzialmente ho fatto 12 voli sulle f 104 a cameri non mi ricordo se ho fatto 4 o 5 voli ma non di più perché la stagione era terribile il mese di ottobre la pianura padana è sempre quello che invece di ottobre fu spaventoso piogge nebbia e cose del genere e quindi dopo due o tre settimane nei quali non volevamo finalmente il 29 ottobre è il mio comandante di gruppo decise di fare questo volo con me come nel senso di informazione insomma ecco cioè lui era leader io ero il gregario però c'è un altro piccolo particolare in quel volo del 29 era anche un volo di ennesimo trasferimento perché da cameri dopo un paio di mesi che c'eravamo avevano deciso di mandarci a grosseto perciò a quel volo era un volo di trasferimento e doveva essere in effetti un cameri grosseto naturalmente il mio capo mi disse guarda la cameria grosseto se andiamo dritti su dieci minuti voglio dice quindi facciamo un volo di addestramento dice allora organizziamoci un cameri rimini facciamo un avvicinamento gca poi facciamo una riattaccata poi faremo un passaggio basso sulla pista per salutare i nostri amici terricoli che sono rimasti la dice poi tiriamo su e ce ne andiamo a grosseto andò tutto bene facciamo avvicinamento gca a rimini poi con un certo anticipo lui disse di pulire l'aeroplano cioè dentro i flap dentro il carrello poi cento per cento full a b tutto po sbruciatore e passammo molto bassi sulla pista a rimini e 104 era l'aeroplano strano mettere il post bruciatore e vederlo passare da 150 nodi a 400 nodi era un amen voglio dire no era una cosa una cosa indecente insomma allora ricordo che l'ultima lettura prima che cominciasse il tutto l'ultima lettura di anemometro che io ho fatto è stata 480 nodi il mio capo mi disse ok allora comincio a tirare su e dolcissimamente quindi non c'è possibilità di credere che sia stata una manovra raffrettata ma molto dolcemente cominciò a tirare su quando forse eravamo con 20 30 gradi di inclinazione tirando su il mio aeroplano improvvisamente fece così cioè mise giù il muso ma con una violenza che non che non posso che non posso spiegare voglio dire no mi ricordo solo di aver perso tutto il grip l'impugnazione della barra la manetta sono rimasto seduto un seggiolino per cercare le cinghie legate ma sicuramente mi sono un po staccato anche dal seggiolino insomma no e se lui avesse continuato in quell'assetto io non sarei arrivato 82 anni non sarei qui a raccontarvi questa storia però questo infernale meccanismo che hanno messo poi anche in altri aeroplani purtroppo anche civili i 27 2737 che sono cascati e ledi obian e quell'altro lì sono anche loro sono dovuti a questo stesso meccanismo che noi chiamavamo il signor kicker cioè il signor calcio perché ti dava un calcio sulla gloche in avanti che era fatto per tutt'al più per proteggere in fondo no chi guidava l'aeroplano cioè l'infernale meccanismo pensava questo se continua così mi mette l'aeroplano in condizioni di stallo e allora io gli do un colpo in avanti sulla cloche in modo che gli rompo l'incidenza di stallo naturalmente che succedeva che questo lo pensava lui e lo faceva quando credeva opportuno e una volta fatto così automaticamente aveva rimesso dallo stallo quindi l'azione del meccanismo finiva e l'aeroplano ritornava su per fortuna ma questo mi è stato spiegato dopo voglio dire perché nessuno di noi sapevamo che c'era questo aggeggio a bordo ma non c'era nulla che ci permettesse né di capire che cosa stava succedendo né di escludere questo aggeggio cosa che è stata fatta dopo cioè stato messo qualcosa dopo che permetteva al pilota di escluderlo allora non esisteva quindi dopo aver fatto così per fortuna altrettanto violentemente li fece così con l'assetto queste due cose fatte una dopo l'altra io sto parlando già da due minuti ma dovete pensare che questa cosa è stata immediata insomma no fatta una dopo l'altra naturalmente rinnescava di nuovo il kicker perché rivenendo sull'aeroplano con questa violenza il signore diceva ma che sei pazzo vuoi far installare l'aeroplano ti do un'altra botta in giù e quindi questo meccanismo non si fermava mai tant'è vero che per qualche miglio io sono andato avanti facendo così naturalmente trovarsi in quell'aeroplano che fa così con 400 e più nodi perché il post bruciatore era ancora dentro era come una nocciolina in una mano insomma no ero lì dentro che sbattevo da tutte le parti non sapevo dove non sapevo cosa stesse succedendo eccetera eccetera improvvisamente ha smesso di fare così che ha rimesso l'assetto verso terra ora se consideriamo che quando avevamo cominciato a tirare su forse avremmo fatto 23 mila piedi ma non di più e che questo aveva puntato la prima volta per terra e poi aveva cominciato a fare questo affare io penso che tra duemila piedi cioè fra il fra il livello del terreno e duemila piedi poi si è accaduto il tutto insomma no cioè accaduto in sostanza che in un ennesimo assetto negativo che aveva assunto quest'aeroplano io ho visto arrivare il tetto di una casa che poi per fortuna l'aeroplano superato ho visto arrivare il tetto di una casa una velocità incredibile e ho detto beh sai che c'è io me ne vado allora e quando quando ho deciso di andarmene era teniamo presente l'anno siamo nel 1964 il martin baker non ce l'avevamo ancora noi non esisteva quindi la maniglia del lancio era tra le gambe era qui in mezzo io ho avuto una un lampo di lucidità o non lo so insomma mi sembrava di essere troppo veloce e ci avevano fatto tanti briefing per dirci che un lancio oltre certe velocità poteva essere mortale insomma poteva essere un lancio pericoloso allora io pensai di fare due manovre successive cioè quella di chiudere motore cielo proprio spento ho spento il motore e poi tirarmi tirare la maniglia invece molto probabilmente ho fatto le due cose contemporaneamente e allora cosa è successo adesso parlerò altri tre o quattro minuti ma tutto quello che vi dico in tre o quattro minuti succede con una con una sequenza assolutamente matematica e meravigliosa quindi inchinarsi di fronte agli ingegneri che fanno queste cose nel tempo di due secondi tre secondi allora tirando la maniglia succedeva che le gambe venivano ritirate alla base del sedile perché avevamo i piedi dentro due pantofoline di metallo che erano legate con dei fili metallici alla base del seggiolino quindi i piedi venivano retratti il tettuccio partiva ma loro si erano preoccupati anche di fare uscire questo signore dall'abitacolo non solo con i piedi retratti ma anche con le braccia accanto al busto per non lasciare qualche mano o qualche braccio nell'aeroplano e allora venivano giù due aste di ferro che noi fino perché non mi è successa questa cosa io non avevo mai preso in considerazione sapevo che c'erano ma erano talmente annegate bene in tutto e tutto il sedile che non non si vedeva non davano nessun fastidio insomma no ma queste due aste venivano giù e con una certa violenza perché si tiravano dietro due reti due retine che ti impacchettavano in modo da farti uscire composto all'aria ora il mio braccio che rientrava dopo aver spento il motore si è incontrato con quest'asta che veniva giù e che mi ha spappolato il braccio sinistro cioè ha fatto una mi ha fratturato omero e gomito va bene a questo punto si esce dall'aeroplano l'uscita dell'aeroplano era pari a una media di 14 g da un'accelerazione di 14 g 14 g si via 14 volte il peso del tuo corpo questo aveva come conseguenza soprattutto per il fatto di doversi leggermente chinare per tirare la maniglia che quando il seggiolino usciva la tua spina dorsale non era dritta ma era quasi sempre leggermente curva tant'è vero che oltre al braccio io ho avuto la rottura della dodicesima dorsale e la c'è un nome la sacralizzazione delle ultime due vertebre cioè quelle della coda cioè le ultime della coda si sono unite e la dodicesima si è rotta è tutto questo ovviamente non viene sentito quando ti succedono queste cose non viene sentito anche perché appena sono stato esposto all'aria beh insomma come ricevere un cazzotto di cassius clay voglio dire ma forse qualche cosa di più sarà stato sicuramente aveva perso aveva perso velocità all'aeroplano ma saremmo stati sempre intorno ai 300 nodi o anche di più insomma no quindi il casco mi ha salvato la faccia in un certo senso in un altro senso siccome è volato via come volato via tutto quello che c'avevo orologio casco e scarpe perfino una specie di di scarponcini che ci avevamo che nei piloti tutti con la con le ciglia eccetera eccetera e tutto volato via ma naturalmente prima di volar via si è stampato sulla mia faccia insomma no che poi avrà delle conseguenze questa cosa va bene a me mi ha fatto un grande favore il fatto di disvenire perché non ho poi vissuto la parte diciamo secondo me non avendola vissuta è un'opinione la parte più paurosa di questa storia cioè il fatto di essere centrifugati per aria dentro un seggiolino e non sapere dove andare cosa fare dove fare eccetera eccetera anche qui inginocchiarsi davanti agli ingegneri che progettano queste cose i quali naturalmente prendono in considerazione il fatto che uno possa essere svenuto e quindi non fare delle cose che dovrebbe fare e loro progettano le cose in modo che avvengano comunque e che cosa avveniva avveniva che dopo un certo tempo ma quando parlo di tempo parlo di centesimi di secondo o decimi di secondo quando questo signor x mentre io giravo dentro del seggiolino erano passati due decimi di secondo tre decimi di secondo e io non mi aprivo le ciglie per uscire dal seggiolino facevano automaticamente scattare una piccola carica una piccolissima carica esplosiva che apriva le ciglie dopo di che c'era subito un altro problema perché chi ha progettato queste cose pensa che tutto questo possa avvenire molto vicino alla terra no cioè questo paracadute si deve aprire immediatamente dopo che è uscito dall'aeroplano non esistevano ancora i paracaduti 00 anche ai miei tempi mi sembra che dovessimo avere non mi ricordo se 150 nodi o un affare del genere a terra per avere una possibilità di venire fuori vivi da questa cosa ma i 00 non esistevano e dunque dove sono arrivato a ecco bisognava che inventassero qualche cosa per staccarti dal seggiolino la cosa è geniale ve la dico in un attimo perché non annegati nel nel seggiolino c'erano due piccoli rulli uno che passava qui sotto le ginocchia è un altro sempre annegato nel seggiolino che era dietro la testa su questi questi rulli c'era una fascia di tessuto sempre anche questa annegata nel seggiolino non si vedeva nulla di tutta questa cosa qui no c'era una fascia di tessuto che perciò in condizioni normali aveva un angolo di 90 gradi questi due rulli venivano fatti girare automaticamente in senso inverso allora questa fascia a 90 gradi si tendeva faceva i 45 gradi e tendendo si tirava un calcio nel sedere che ti staccava dal seggiolino è una cosa geniale voglio dire una cosa fantastica tutto questo naturalmente mi è stato raccontato quando io mi sono interessato di come era fatto un seggiolino insomma ecco prima non me ne frega mai niente e quindi sono stato staccato dal seggiolino staccandomi dal seggiolino accadeva che quel moschettone che prima del decollo il moschettone del paracadute avevo attaccato al seggiolino si tendeva tendendo si tirava fuori un paracadutino il paracadutino estrattore il quale estraeva a sua volta il paracadute gigante qui comincia l'avventura perché finora non è successo nulla finora è successo che un aeroplano ha dato i numeri io ho tirato una maniglia e poi mi sono addormentato mentre invece adesso il bello accade quando mi sveglio dopo un tempo x indeterminato io ho riaperto gli occhi ho riaperto gli occhi ma non sapevo assolutamente dove fossi e che cosa fosse successo poi mi hanno spiegato medici figuratevi interrogatori che ho subito per mesi e mesi da parte di tecnici e medici mi hanno spiegato che quando si sia vittime di un trauma così importante c'è un trauma così forte il cervello non so per quali motivi cancella l'ultima parte del periodo in cui è risveglio e non comincia a registrare appena riapri gli occhi ma comincia a registrare qualche secondo dopo quindi se il montatore cerca di fare il montaggio del film non si troverà mai perché gli manca il pezzo finale e gli manca il pezzo iniziale insomma e quindi non sapevo assolutamente dove fossi anche perché c'erano due cose che non mi aiutavano a capire dove fossi una era un silenzio meraviglioso un silenzio totale il silenzio e l'altra era che vedevo tutto rosso cioè capivo che davanti aveva il mare perché perché dava la sensazione del mare ma era rosso ho visto passare un treno che era tutto rosso gli alberi erano rossi qualsiasi cosa era rosso allora che faccio una considerazione banale insomma la più banale che fa anche chi mi sta ascoltando ovviamente ho pensato vabbè sono morto insomma poi ci sarebbe una considerazione però più interessante che non è che non è qui il caso di approfondire nello stesso momento nel quale ho pensato sono morto ma questa è durata qualche frazione di secondo poi vi dirò perché nello stesso momento che ho pensato sono morto ho pensato a cazzarola ma allora la cosa continua non finisce sto solo da un'altra parte e ho avuto un momento di grande gioia insomma ecco però questa è una considerazione a parte tutte queste cose sono finite come per incanto quando ho visto che stavo lentamente inesorabilmente andando a cadere su dei figli dell'alta tensione ho detto ho detto cazzarola sarò pure morto ma io lì non ci voglio andare quel momento mi sono svegliato cioè ho ricostruito il tutto soltanto che non vedevo il paracadute ma non potevo vederlo perché nel i pare cadute del 64 non erano come quelli di adesso che tu decidi di pilotarlo sul tetto di una macchina e arriverai sul tetto di una macchina erano semplicemente degli ombrelloni enormi che ci avevano detto che tirando le funi da una parte andavano da quella parte e tirando le funi da un'altra parte andavano da quella parte però ci teneva da qui dietro dietro al collo dalle spalle per cui scendendo col paracadute si stava con la testa così quindi nello stesso momento in cui ho pensato mi sono lanciato sono vivo non debbo andare sui figli dell'alta tensione per conferma di questa cosa ho tirato sulla testa e ho visto questo meraviglioso ombrellone dove c'erano anche degli spicchi gialli e rossi quindi io sono da roma e quindi figura del paracadute di colori da roma è fantastico e quindi ho deciso di fare quello che mi avevano insegnato cioè ho dato ordine al braccio sinistro di andare su ma il braccio sinistro se ne è guardato bene ed è rimasto giù allora ho dato ordine al braccio destro di andare in su ma anche il braccio destro non si è mosso perché pur non avendo avuto rotture avevo avuto il distacco del deltoide il deltoide questo muscoletto che sta qui su che ci aiuta a fare questo movimento e quindi neanche il braccio destro è andato su c'è stato un attimo che mi sono sentito ho avuto paura forse la prima volta che ho avuto paura però siccome avevo 26 anni è una gran voglia di vivere ovviamente le uniche cose che potevano muovere erano le gambe e quindi questo senza sapere di avere la schiena rotta naturalmente allora ho cominciato a dare delle grandi sforbiciate con le gambe e ho impresso questo paracadute un dondolio e diciamo che con le gambe in bocca sono passato a qualche metro da questi figli dell'altra tensione immediatamente dopo impattato col soffitto di una casa era una casetta di tre metri e mezzo quattro forse non so esattamente quanti possano essere e sotto c'erano un meccanico e un elettricista i quali come poi mi hanno quelli che poi mi hanno portato in ospedale e che mi hanno detto che avevano visto tutto e stavano facendo il tifo praticamente insomma no per per questo signore che scendeva attaccato al paracadute e naturalmente non pensando che sarebbe andata a finire proprio su casa loro insomma è appena ho impattato questo soffitto cominciato a rotolare naturalmente mi è passato accanto l'antenna della televisione antenna della televisione del 64 c'era un filetto di ferro con altri tre filettini forse se la fotografia poi puoi far vedere e l'ho tirato attorno il mio braccio destro che in questa direzione ha funzionato ma ha funzionato tanto da toccarla è sicuramente non da stringerla perché l'ho appena appena piegata e mi ha scappata ho continuato a rotolare il tetto è finito ora naturalmente mentre ero sul tetto e rotolavo il paracadute scendeva quindi le funi erano flosce quindi quando sono cascato in giardino ho fatto proprio un tuffo in caduta libera in giardino c'era un palo della luce elettrica di ethernet e ho solo deciso da che parte prenderlo e l'ho preso sulla parte destra chissà perché ho preferito la parte destra e sono svenuto un'altra volta quindi nel giro di tre minuti quattro due e mezzo non lo so insomma no sono svenuto due volte per due differenti traumi mentre io finivo sul tetto del dei due signori dell'elettricista e l'idraulico l'aeroplano finiva non molto distante da me per fortuna per fortuna in una zona abbastanza sgombra però con delle case vicina insomma la fortuna fu che picchiò per terra esattamente col muso scavando un buco profondissimo e quindi non non fece strada per terra non spiattellò insomma no ma finì direttamente per terra facendo un grande buco però parte della roba che uscì da questo buco andò a cadere sui tetti di due o tre casette che erano vicine e nessuno riportò fortunatamente dei danni tranne una bambina che aveva 13 anni la quale c'era l'influenza stava a letto la mamma gli aveva portato da mangiare e mentre mentre cominciava a mangiare gli sono cascati dei calcinacci sul letto quindi la portarono in ospedale insieme a me praticamente ma aveva soltanto ero soltanto in stato di shock ma non aveva neanche un graffio insomma questo questo fu praticamente il miracolo più grande perché avere un incidente sapere che il tuo aeroplano ha ammazzato qualcuno è una cosa che poi sicuramente non mi avrebbe lasciato tranquillo per il resto dei miei giorni invece tra le altre fortune ho avuto anche questa fortuna questi due signori mi hanno immediatamente preso senza sapere cosa avesse ovviamente cacciato nel sedile posteriore di uno 600 e fazzoletto fuori e mano sul sul clacson hanno cominciato a correre verso l'ospedale di rimini siccome io sono rinvenuto quasi subito cioè quando mi avevano appena messo in macchina e vedevo questi due che correvano come pazzi mi viene da ridere a raccontarlo insomma ma non io cominciavo a sentire che dentro c'era qualcosa di rotto che non ero più come prima insomma ecco e mi è venuto in mente mi sono venuti in mente i cartoni animati dei walt disney perché dovete sapere che in accademia noi siamo stati allevati a cartoni animati di walt disney e anche in accademia la domenica mi pare pomeriggio non mi ricordo eccetera eccetera ce ne venivano proponiate una mezz'ora 40 minuti di questi cartoni animati che erano intitolati mi ricordo that's all folks e mi ricordo quando tanti di questi personaggi i quali magari avevano subito un incidente gli stavano sparando addosso eccetera eccetera continuavano a correre regolarmente come se nulla fosse poi improvvisamente si liquefacevano mi ricordo questa scena dei cartoni animati non me la scorderò mai io mi sentivo esattamente in quella situazione cioè dico se questi sbattono con la macchina io mi dissolvo e quindi continuavo a dirgli andate piano andate piano dove cazzo andate quindi poi quando sono venuti in ospedale mi hanno detto diceva diceva lei ci diceva andate piano andate piano ma dicono dico ero strano in quel momento voglio dire pensavo ad altre cose insomma va bene per farvela breve chiudere questa cosa qui vi ho detto cosa mi era successo schiena braccio all'altra cosa che ero irriconoscibile in viso per fortuna non c'erano fratture né il casco che si era stampato in faccia prima ad andar via né il palo mi avevano rotto mandibole o denti o naso robe del genere però era un era un ammasso di di sangue cioè di pelle e sangue che mi rendeva assolutamente irriconoscibile ma era tutto sangue che poi è stato riassorbito nel mese seguente voglio dire non c'era niente di rotto non è tanto è vero che la mia fidanzatina dell'epoca la quale arrivo in ospedale forse un'ora mezz'ora dopo il mio incidente non lo so insomma appena entrò in camera e mi vide svenne regolarmente quindi poi da lì mi portarono a bologna alla clinica rizzoli dove c'era un luminare dell'epoca e insomma questa era la medicina di quasi 60 anni fa probabilmente questo braccio adesso si sarebbe salvato allora mi operarono mi misero un ponte di ferro con quattro viti ma soprattutto mi misero un busto di gesso col braccio così per due mesi e mezzo cioè io per due mesi e mezzo sono stato in un busto di gesso quando mi hanno tolto il busto naturalmente il braccio era un pezzo di ferro dove non si muoveva assolutamente niente cominciata una dolorosissima procedura che consisteva in quella che loro chiamavano mobilizzazione cioè io tutti i pomeriggi andavo in questo scantinato del rizzoli mi sembrava la stanza delle torture di carlo quinto andavo lì e appoggiavo il mio braccio sul tavolo di fronte un signore il quale per mezz'ora faceva così ed era una roba che non auguro al mio peggior nemico voglio dire perché era un dolore incredibile insomma però era necessario perché se non come mi spiegarono dopo se non avessi avuto almeno un 20 30 per cento di di angolo di mobilità insomma non potevano rifarmi idoneo al buono insomma quindi non quindi ho sopportato volentieri questa cosa qua finché finalmente tutto è finito mi hanno rifatto idoneo al volo quando hanno fatto idoneo al volo non potevo comunque più volare sui jet perché per la siena sostanzialmente perché chiaro che non potevo subire dei g con un reattore praticamente impossibile non non essere sottoposto almeno saltuariamente a 234 g insomma mi mandarono al reparto radio misure di pratica di mare dove per due anni ho fatto delle altre esperienze interessantissime intanto sui sui plurimotori che che noi noi top gun vedevamo con un certo con un certo disprezzo invece sono sono degli aeroplani soprattutto quelli a delica ho fatto passaggi sul c47 sul c45 c'eroplani dalla seconda guerra mondiale insomma ecco però sono aeroplani che non sono di facilmente addomesticabili voglio dire meglio meglio a terrare con un jet che con un c45 con 15 nodi al traverso insomma ecco non mi hanno fatto fare un'altra esperienza che mi è risultata poi molto utile per quando sono andato all'italia e ci sono rimasto 30 anni e quindi insomma ho finito a 60 anni questa mia vita con gli aeroplani vorrei dire una breve cosa io ho sentito i commenti di tanti piloti lf 104 negli anni seguenti a quello nei quali ho avuto l'incidente che ripeto e del 1964 e quali quali commenti erano tutti entusiasti nei confronti di questo velivolo che aveva effettivamente prestazioni eccezionali ma volevo soltanto far sapere da questi signori se non l'hanno saputo che il loro aeroplano cioè il 104 sul loro sul quale loro hanno volato era un altro aeroplano che li ha entusiasmati ma li ha entusiasmati perché prima prima di quel modello su quale loro hanno volato c'erano stati parecchi ragazzi che ci avevano lasciato la pelle alcuni dei quali erano riusciti a parlare prima che questo accadesse erano riusciti a parlare con chi stava a terra a fargli sapere che cosa stava succedendo io non sono riuscito a parlare mentre il tutto accadeva ma ho parlato quando sono arrivato per terra perché sono rimasto vivo oltre a tanti altri difetti che quest'aeroplano aveva e che gli erano stati tolti dal 1957 da quando aveva cominciato a volare c'erano due sostanziali che non erano mai stati risolti uno era quello del kicker cioè quello che è successo a me e un altro era l'apertura delle ciglia cioè del cono d'uscita dei gas dalla coda queste ciglia andavano quando volevano loro in apertura e quindi potevano dare all'aeroplano la spinta compatibile soltanto con la manetta nella sezione del post bruciatore nostro compagno di gruppo e carissimo amico mentre eravamo a cameri ebbe appunto questa questa varia ne parlò immediatamente con quelli che stavano a terra i quali gli consigliarono di lanciarsi lui disse no no ce la faccio ce la faccio a portarlo a terra ce la faccio ce la faccio e fece tutto l'avvicinamento a colpi di a b a colpi di post bruciatore e noi eravamo schierati davanti al gruppo vedere staroplano che cercava di atterrare e e lo vedremo toccare pista toccare per terra a una velocità che probabilmente hanno stimato era tornare a 3 200 e 240 nodi naturalmente il carrello volò via immediatamente l'aeroplano venne a contatto con la pista prese fuoco con quello che segue ora tutti coloro che hanno potuto raccontare queste cose ai tecnici hanno fatto sì che poi l'aeroplano subisse delle modifiche che sicuramente ne hanno fatto un aeroplano sempre inutile ma molto adrenalinico ecco grazie